Si è tenuta questa mattina a Cagliari presso l'assessorato regionale degli enti locali la presentazione delle modalità di attuazione della proroga per le concessioni degli stabilimenti balneari della Sardegna. L'assessore regionale agli enti locali Quirico Sanna ha presentato alla stampa la circolare che stabilisce la proroga delle concessioni dei maniali marittime fino al 2033, adeguando la Sardegna, ultima regione italiana a non averlo ancora fatto, alla legge nazionale del 2018 che prevede una proroga di 15 anni per i titolari di stabilimenti balneari. Una circolare che arriva dopo mesi di attento studio da parte dell'assessorato che ha agito attraverso un confronto serrato col governo nazionale e dopo aver consultato il parere di numerosi amministrativisti. La regione con questa circolare viene incontro alle istanze portate avanti da circa mille imprese che danno occupazione a migliaia di sardi, di giovani sardi, la daranno d'estate e con la nuova legge che abbiamo prorogato per l'apertura degli stabilimenti anche in inverno. Oggi con questa circolare gli imprenditori potranno avere i finanziamenti necessari per gli investimenti negli stabilimenti. In quest'arco di tempo ci sarà sicuramente una riforma e molti comuni ci hanno sollecitato a questa circolare perché c'erano dei dubbi. Un provvedimento che porta con sé anche delle polemiche contestato con durezza ieri dal sindaco di Olbia a Settimo Nizi che ha definito un grosso passo falso l'adeguamento alla legge nazionale. Per il sindaco di Olbia dovrebbe valere invece la direttiva europea Borchestein che impone la concorrenza nelle concessioni pubbliche.